La città vecchia, proprio a pochi metri da Palazzo di Città, dal Castello Aragonese, sommersa dai rifiuti, qui ci sono delle persone che cercano di prendere un po' d'aria, hanno portato da casa delle sedie perché ovviamente a Taranto non ci sono centri di aggregazione e devono convivere con la puzza e tra i rifiuti. Scaravoccio, tutta una porcheria, ma il sindaco non interviene? Non esiste a Taranto il sindaco, voi lo vedete in giro Melucci? No, l'abbiamo votato, è stata una grande fesseria. Ma voi lo vedete in giro? No, non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai visto. Si vede? Rinaldo Melucci, se ci sei batti un colpo. Dov'è che sta Melucci? Pabasca dice, mi dovete votare, Taranto deve essere cambiato. Parla di rinascita. Una cacca dobbiamo stare. Questa è rinascita? Questa è una vera merda. Ma come si fa? Dico io, scusate, io vi vorrei veramente sorrido per non piangere. Cioè sento un sindaco che mi parla di rinascita di Taranto quando nel pieno, nel borgo antico di Taranto, in uno dei punti più rappresentativi di Taranto, c'è la merda, si vive nella merda. E la disinfettazione quando la dobbiamo... Non esiste, signora. Ah, Melucci, dove stai? Alla villeggiatura? Tanto ti ho avuto da ramata, nel fischio. Avete visto lì, signora? Avete visto? Il briscono, il popolo Zandero, il briscono. La bosca camostra è buona, tanto ha dovuto da sindaco. Se ne infischia di noi. Vedete, questa è la voce vera della città. Io non voglio aggiungere altro perché assistere a uno scempio del genere, vedere una città così offesa, così calpestata, una bellissima città, una bellissima città. Ed è giusto ascoltare la voce dei cittadini, signora. Voi venite qui per prendere un po' d'aria? Perché tutti abbiamo i problemi nella vita. Già abbiamo l'ilva. E sentiamo la puzza dell'immondizia, è vera. Giusto? Cosa dite quella sentita? Guarda la puzza di moro. E' sporca, è sporca la città. Cosa direbbe al sindaco? E non dobbiamo pagare la spazzatura. Ecco, a proposito, la spazzatura che è salita, la tarica e sale. E l'abbiamo pagata stamattina la spazzatura. E la merda che aumenta. Pure in città. Sì, la battubiera, fuori le cassonette. Mobili, tutto. Allora, io dico, quando c'è il cittadino che butta i mobili e roba varia, deve essere sanzionato. Ma, ripeto, il cittadino civile che conferisce i rifiuti e trova i cassonetti strapieni, strapieni. Cosa deve fare? Cosa deve fare? Allora, con quale criterio avete scelto questi cassonetti piccolissimi, caro Bancarelli? E allora, più volte al giorno si devono svuotare, visto che questo è il problema. Signora, voi venite, vivete in queste zone, non si può stare per la puzza. Buonasera, io vengo dalla città, però sono nata a città vecchia, mi piace la città vecchia, però non si può stare per la puzza dell'immondizia. Ma si vede, si sente. Si sente a morire, specialmente anche dove sta il cassone là, che fanno la pipì dei cani, pure qua, non puliscono. Che immagine diamo ai turisti? Cosa devono pensare di noi? Un'immagine di schifo, di sporco, non è giusto, perché la città vecchia è diventata zona turistica, è una cosa bellissima. Non che vengono qua i turisti che si devono schifare e andare a altre città, quando noi abbiamo un bel centro storico, bellissimo. Parole sante, quello che dico ogni momento. Questo volevo dire, un po' di cortezza, un po' di pulizia, anche le persone, un po' di ordine. Grazie. Bene, come vedete sono un consigliere di strada, amo girare la città e non è possibile poi fare anche così eventi. Qui ci sono delle attività commerciali, c'è un bar, c'è un ristorante, ma è possibile che si debba vivere in queste condizioni da terzo mondo? I turisti si schifano, Melucci si schifano, perché questo è lo schifo in cui avete ridotto Taranto. E denunciatevi, denunciatevi, questo è una merda, è uno schifo. Volete dimostrarmi il contrario? Grazie a tutti.